Ciao, ci siamo Ciao Mi immagina che su YouTube andresti Esatto, esatto, esatto Io sono il mistero, sì Ciao ragazzi e ben ritrovati nel nuovo podcast La Cultura del Benessere Oggi in questa puntata parleremo di psichiatria e di salute mentale con un professionista di grandissimo livello ed esperienza Ciao Valerio e grazie per essere qui Ciao, grazie a voi dell'ospitalità Fantastico Partiamo subito quindi con, anzi, partiamo con la tua presentazione Dici chi sei, che cosa fai e da dove vieni? Io sono un medico, sono un medico specialista in psichiatria e anche psicoterapeuta Vengo dalla Liguria, vengo da Chiavari, che è un posto veramente bello a cui sono molto affezionato La mia attività è stata per molti anni quella di clinico, nell'ambito delle neuroscienze Ho fatto anche molti lavori di ricerca, per chi fosse interessato andate a cercarmi sui vari database Mi sono occupato tanto del rapporto mente-corpo, da un punto di vista di ricerca In realtà del rapporto mente-cuore Ok E infatti magari poi ne parleremo, magari se ne abbiamo voglia Da un punto di vista clinico mi dedico ultimamente in modo particolare a persone giovani Persone che sono affette da disturbi dell'affettività, da neurodivergenze Sono all'interno di un istituto che si occupa di disturbi del comportamento alimentare in Liguria La mia attività clinica ultimamente si è molto ristretta perché mi sto dedicando tanto alla divulgazione Il mio focus è quello di arrivare alle persone in un ambito che è molto poco frequentato Che è quello della lifestyle medicine Dell'idea che le persone debbano entrare in un mindset di prevenzione molto più spinto Molto più efficace di quanto non si stia facendo E questo per varie ragioni Per primo luogo perché la sanità come la conosciamo oggi sta per naufragare purtroppo E in secondo luogo perché è realmente importante che ogni persona diventi responsabile Che prende in maniera proattiva in mano la propria salute per evitare di ammalarsi Perché quello che sta accadendo oggi da un punto di vista di salute fisica e mentale Il posto che vogliamo fare questa divisione che io la trovo ormai molto desueta Però quello che le persone devono iniziare a immaginare è che la medicina riparativa Ha fatto dei passi in avanti incredibili Possiamo vivere molto più a lungo Ma purtroppo ci stiamo rendendo conto che la popolazione generale sta vivendo molto meno tempo sana E le persone hanno un'idea un po' delirante Che non so se mi viene un infarto e mi curano E quindi comunque la mia longevità va avanti nonostante appunto la patologia Grazie alla medicina riparativa Beh dopo avrò un carico di fragilità superiore Così come se io mi ammalo di una patologia mentale È una banalità ma è ovvio che è molto meglio non ammalarsi Il mio lavoro è quello di sensibilizzare le persone a questa tematica della prevenzione E dello stile di vita e far sì che riescano a fare cambiamenti strategici Del modo in cui vivono per far sì di ammalarsi meno Di vivere più a lungo e in maggiore benessere Bello, bello, bello Direi che in questo momento storico è fondamentale Anche perché la nostra società si è sviluppata più per la cura che per la prevenzione E grazie appunto alle tecnologie noi siamo sempre più longevi Ma allo stesso tempo sempre meno vitali, sereni o anche felici Quindi secondo te questo processo tecnologico sta dando un reale vantaggio alla nostra specie? Cioè ci sta rendendo da una parte più longevi Ma è veramente benessere? Questa domanda è cruciale ed è alla base di tutti i miei progetti La tecnologia ha una caratteristica molto importante Che è di fatto anche un prodotto E in questo momento purtroppo il business intorno alla salute è connesso alla medicina riparativa Cioè una persona può far guadagnare dei soldi a chi produce soluzioni di intervento in salute Perché sono dei prodotti Un farmaco e un prodotto Alcune metodiche diagnostiche sono dei prodotti I processi riparativi quindi la chirurgia, le cliniche eccetera sono tutti prodotti La popolazione deve iniziare a immaginare che la salute non inizia quando io mi ammalo Quello è prendersi in carico della malattia Io mi sto occupando di un disturbo dal momento in cui mi ammalo in avanti La nostra Costituzione, l'articolo 32, dice che lo Stato dovrebbe occuparsi della promozione della salute Come primo, diciamo, mandato E le persone confondono occuparsi della salute con l'idea di occuparsi delle malattie In questo senso non ci stiamo occupando da un punto di vista tecnologico di prevenzione Perché di fatto non è ancora un prodotto Ok, non abbiamo ancora dei prodotti che si occupano di prevenzione Perché la prevenzione la fai con le informazioni e con la motivazione O per meglio dire col suscitare all'interno delle persone delle proprie buone motivazioni al cambiamento Non abbiamo ancora dei grossi prodotti che si rivolgano al cambiamento Sì perché poi di fatto per salute non si intende assenza di malattia Ma uno stato psicofisico ottimale A questo il punto Bio-psico-sociale, dice l'OMS Quindi sono tre caratteristiche che includono dimensioni di complessità molto grandi Biologico, ce ne stiamo occupando abbastanza bene Psicologico, diciamo, mezzo e mezzo Sociale ce lo siamo dimenticati Cioè quanto la nostra società ci permette e favorisce un cambiamento nella direzione del benessere Questa è una domanda molto importante Chiaro, chiaro Però c'è anche una sorta di vulnerabilità da questo punto di vista Cioè nel senso che l'uomo fa fatica a proiettarsi da qui a 50 anni Cioè quindi si pensa sono giovane, se bevo un po' di alcol non mi succede nulla Eh ma quella quantità di alcol oggi non ti fa nulla Ma non è detto che quello stress ossidativo che tu oggi hai instaurato un domani non ti può creare un problema Cioè stai creando un processo più veloce di invecchiamento Quindi secondo me manca proprio la lungimiranza del progettare Ma in tutti i sensi, cioè dal punto di vista lavorativo Si vive molto il giorno, si vive molto l'anno ma non gli anni Giusto? È corretto Inoltre bisogna entrare in un contesto difficile da spiegare alle persone Ma peraltro è così Anche perché è poco tangibile È poco tangibile Però io cerco spesso di spiegarlo facendo capire come la nostra vita abbia a che vedere Non solamente con dimensioni interne o dimensioni esterne Non si tende a polarizzare su questi due aspetti La patologia inizia da dentro di me Intorno a me Oppure a partire Tu hai parlato di alcol A partire da una sostanza Il problema non è mai in uno di questi tre poli Il problema è le modalità con cui questi tre poli si mettono in relazione C'è uno psichiatra che si chiama Zimberg Che ha esemplificato questo problema in un triangolo Il triangolo di Zimberg In cui ad esempio parlando di alcol L'alcol è un problema non di per sé Così come non è un problema di per sé Paradossalmente neanche gli oppiace Gli oppioidi Che le persone dicono Accidenti, l'eroina, le cose Gli oppioidi li usiamo comunemente in medicina Ok? Questo è una cosa che le persone devono saperlo Ebbè ma sai Il fentanil che utilizziamo Lo usiamo in ospedale Mia moglie usa il fentanil come anestesia E lo usi per strada E la stessa identica sostanza Che cosa cambia? Il set Cioè il luogo dove lo usi E le ragioni E il setting Ovvero la persona La motivazione per cui la persona usa quella sostanza E l'ilinghippo Ok? Noi ci stiamo concentrando sull'alcol come sostanza Sul fentanil come sostanza Sul caffè come sostanza Ok? Il problema non è mai la sostanza Il problema è questa interrelazione Parliamo dell'alcol Una persona dice Ma io Sono tanti anni che gestisco bene l'alcol Bevo un bicchiere il sabato sera Nessun problema Ok Io non ti dico che quel bicchiere è sbagliato Io ti dico che il modello mentale Che ti sei fatto attorno a quel bicchiere è sbagliato Perché basterà Che cambi qualcosa attorno a te Ti faccio un esempio Ti licenziano C'è una crisi C'è una guerra Una crisi economica Ho qualcosa dentro di te Divorzio Perdo un caro Mio figlio muore O cose di questo genere Ecco che si squilibrerà questi angoli di questo triangolo Ed ecco che l'alcol non sarà più Quello che tu ricordavi che fosse Cioè l'alcol resterà quello che è Sarai cambiato tu Quindi aumenti l'ancoraggio verso quella sostanza E hai più probabilità di aumentare il consumo Ed è un po' quello che succede a oggi col cellulare Cioè nel senso oggi il cellulare è dal punto mio personale Una sorta di droga Ci dà scarica di dopamina Ci dà gratificazione Quindi a oggi noi ce l'abbiamo sempre a porta di mano Come vedi l'utilizzo del cellulare In particolare i social nella salute mentale? Allora il discorso dei comportamenti Che generano dipendenza O gratificazione che può diventare patologica È lo stesso delle sostanze Non è così diverso Quando parliamo di fentanyl Alcol Zucchero Cellulari Pornografia Stiamo parlando di comportamenti o di sostanze Che hanno degli aspetti molto simili Molto più simili di quanto non ci aspettiamo E di quanto non ci viene venduto da questa società Sono molto simili Nel senso che La parte del nostro cervello Che è una particina qua Ok? Qua all'interno E che genera questo genere di gratificazione E quella che controlla questa gratificazione Che è questa parte molto più grande Che è la corteccia prefrontale Sono gli oggetti in gioco In tutte queste sostanze Questi comportamenti potenzialmente patologici Quindi il cellulare potremmo definire Che è qualcosa che ha la stessa potenzialità Dello zucchero Del fentanyl E non è un iperbole È esattamente quello Perché lavora sulle stesse strutture neuroanatomiche Certamente il cellulare può avere Lo stesso ruolo all'interno di questo triangolo Che hanno queste sostanze Quindi abbiamo per strada persone che gestiscono molto bene il cellulare Persone che invece ne sono totalmente vittime Ci sono andate sotto E poi può avere anche delle fasi Inizialmente magari non ne sei vittima Ma dopo un po' Che sei un po' più stressato Hai la sua attenzione sempre più bassa Non sei gratificato alla vita Ti dai un ancoraggio del cellulare Ma il problema del cellulare è che è ancora più subdolo dell'alcol O di qualsiasi droga Perché ce lo devi avere Vuoi o non vuoi Hai a contatto Hai a che fare con questo tipo di tecnologia Quindi devi trovare poi dei mezzi Degli strumenti Per limitarli al consumo Quindi le app che ti bloccano l'utilizzo Quello Ma in realtà La cosa migliore È fare un percorso Che passi dalla consapevolizzazione Quello che stiamo dicendo adesso È qualche cosa che è molto più utile Di un'app Che ne limita l'utilizzo Perché tu ti rendi conto Che puoi iniziare a fare degli esercizi Di autoosservazione E guardare i momenti in cui Uso più cellulare O uso più alcol Andiamo a vedere cosa succede Devi essere un po' Analitico Nei tuoi stessi confronti Può essere che Ti rendi conto Che lo stress In qualche maniera Diminuisce il controllo Che la mia parte razionale ha Sulla parte più antica del mio cervello Quella appunto più impulsiva Ed ecco che ti renderai conto Che anche banalmente l'alimentazione Se io sono più gratificato Cioè adesso io e te stiamo parlando E siamo ingaggiati In questa attività Ci piace Si vede che siamo contenti Ok Non penserai minimamente alla fame No Ok Non penserai né all'alco Né al caffè Non so se tu bevi Non pensi Pensi che siamo qua Ci piace Siamo connessi La connessione è il punto Il punto che le persone Devono iniziare a prendere In considerazione Che più tu sei connesso Con le parti buone Della tua vita E meno avrai problemi Da questo punto di vista Ed è qua la parte sociale importante Ok E questo il punto Di cui pochi parlano Il problema è che quando sei immerso Dentro al cellulare Poi la solida attenzione Si abbassa Quindi l'immersione L'ancoraggio Verso situazioni simili Un po' va a scemare Ti estranei un po' Sì sì Diciamo ti genera una Downward spiral Direbbero i Nine Inch Nails Una spirale discendente Verso l'inferno Che la puoi bloccare E rinvertirla Però bisogna ricordarsi Che il tempo Che sprechiamo sul cellulare È tutto tempo Che non potremmo utilizzare Perso Per altre questioni Perché L'utilizzo del cellulare È qualche cosa Che se vai a vedere bene Potrebbe occuparti Non so Il 10% Della giornata Oppure I momenti critici Che sono quelli puntiformi Che vuol dire Ce l'ho addosso E lo utilizzo Ma tutto il resto Ragazzi è cazzeggio Sì 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 Chiamalo come vuoi Attenzione incredibile Perché ti agganci Nel monitor del cellulare Poi devi riscollegarti E parlare con un'altra persona Quindi il cervello Fa una fatica incredibile A prendere attenzione In tante situazioni E quello lì È iper stimolante Sotto performa Quindi Alla lunga Fa fatica A essere performante E tutto questo Negli adolescenti Che impatto ha? L'adolescente Io inizio A trovare Un po' sbagliata Questa divisione L'altro giorno Ero sul treno Ho detto Beh sì Vediamo un attimo A fare una statistica Ho guardato Il treno Cosa stava facendo Ma così Come se fossi Un bonzo Uno spettatore Che osservava Che cosa stava succedendo Tutto il treno Era Look down syndrome Cioè Attaccato al cellulare Tutto Non erano gli adolescenti Tutti Io vedo genitori Che dicono Gli adolescenti Di non fare cose Che fanno Allora e questo Capita con sostanze E comportamenti D'abuso Quanti genitori Dicono ai figli Non bere E loro bevono Ah chiaro Quanti genitori Ai figli Dicono Non usare cocaina E loro ne usano a fiumi Quanti genitori Dicono agli adolescenti Non usa Usa meno il cellulare E loro sono attaccati Al cellulare No però A livello di sistema nervoso Di soglia Attenzione Un'adolescente Ha un sistema nervoso Differente rispetto A un adulto Cioè Se io mi ricordo Non so Quando ero alle medie Alle superiori Avevo una capacità Di immersione Di stare dentro Alla situazione incredibile Cosa che adesso Vedo che ho un po' perso Ok Quindi un adolescente In quel momento lì Che perde questa capacità Di creare il suo futuro Perché io ad esempio La mia carriera L'ho creata in quel momento Dove ero Iper performante Iper ossessionato Non avevo nient'altro Da pensare Quindi facevo solo quello Ok Un adolescente Che va a distrarsi Può creare un problema Nel suo processo di vita Sì Il neurosviluppo In realtà Le fasi critiche Nello sviluppo Sono anche un filino Prima Diciamo Dell'adolescenza Certamente Il cervello Continua ad avere Una sua plasticità Una sua evoluzione Sì Diciamo Clu Fino 18-20 anni In quell'area Lì Poi iniziano ad andare male Però Io ti voglio ripetere Una cosa La mia idea Personale Suffragata Anche da un certo Livello di letteratura È che comunque Questo sia un problema Assolutamente generale Cioè Nell'adolescente Certamente Inizia ad intaccare Un momento della tua vita In cui hai molta più libertà Hai molta più possibilità Di focalizzarti Di fare un focus Molto più profondo Su alcune Non so Passioni Tue skill Quindi aumentare Di competenze Però Ti ripeto La retorica Dell'adolescente Che sia la figura Più a rischio Io la sposterei Ma perché Gli adolescenti Non è che li cambi Con le parole Niente Un buon esempio Nel senso che Siamo sicuri Che l'ambiente Vince sempre Se tu vuoi cambiare Gli adolescenti Devi cambiare tu Così come io sono convinto Che se tu sei un medico Sei un personal trainer Sei qualcuno Che si occupa Di far migliorare Le capacità di una persona Devi essere tu Essere già cambiato Perché è veramente È una potenza Che supera Qualunque parola Il buon esempio Scusate la banalità Ma è veramente Una cosa molto importante Quindi se noi vogliamo generare Una generazione Di adolescenti Che sia pronta Ad affrontare in maniera Efficace E efficiente la vita Dobbiamo iniziare A farci qualche domanda Su come siamo Noi adulti Su quale esempio Stiamo dando Io non credo Nell'idea Che un medico Possa fare bene il medico Senza dare il buon esempio Io non posso parlare Di alimentazione Se sono sovrappeso Io non posso Continuare Andare avanti Su delle retoriche Che in realtà Sono semplicemente Dissonanze cognitive Punto Ok Io ho visto Vedi sui social media Medici Che sono sovrappeso Li vedi fumare Che parlano dell'alcol Ok Devi decidere Se quelle sono persone Che hanno dei problemi Giustamente Può essere Che ci sono dei problemi Che vanno risolti Ma bisogna smettere Con la retorica Che va bene così Che una dipendenza È ok Solo perché È socialmente accettata Mentre invece altre cose Non vanno bene Perché non sono Socialmente accettate Spesso dico Che io avessi un figlio Preferirei Che si facesse delle canne Che si bevesse alcol Tutto il giorno In realtà Se avessi un figlio Preferirei che non usasse Niente Io sono a favore Del niente Dello straight edge totale Io credo che abbiamo Tutto già dentro di noi Assolutamente Assolutamente Dobbiamo soltanto Trovare la strada Che ci dà gratificazione Che ci fa appassionare Il processo E pensa un attimino Io e te In questo momento Come esemplifichiamo Questa cosa Io sono convinto Io sono certo Ma sono convinto anche Che tu In questo momento Se noi siamo connessi Non abbiamo bisogno Di niente Assolutamente sì Ma è sempre più difficile Questa connessione Non è facile Uno incontrarsi Siamo sempre più Staccati come persone E in più Non tutti hanno Questa capacità Di immergersi O anche di fare Questi tipi di ragionamenti Cioè non è una cosa Che tutti secondo me Possono fare Cioè potrebbero A livello potenziale Ma poi difficilmente Riescono a coltivare La cultura La consapevolezza L'imparare Nozioni Non sanno neanche Questa importanza Perché non c'è la base Bisogna probabilmente Dare anche lì Del buon esempio Le persone devono sapere Che io per venire da te Ho fatto una cosa Che ha richiesto Dell'energia Ho messo a punto Che mi piaceva Quest'idea Ho messo a punto Chi eri tu Ho deciso Che volevo parlare Con una persona Che potenzialmente Era in connessione Con me Ho preso Baracche Burattini E anche mia moglie Che è venuta con me E siamo venuti qua Io e lei Ok Ci siamo presi La nostra macchinina Siamo venuti qua da te E questo Un esempio Che spero Che possa essere contagioso Perché bisogna Veramente partire Da qualche cosa Di fortemente Ancorato alla realtà Ok Non ci siamo Visti su internet Siamo nello stesso posto Nello stesso momento temporale Stiamo facendo qualcosa Che ci connette Questo è il vero messaggio Di questo video Esatto L'obiettivo è proprio questo Dare il buon esempio Dare cultura Consapevolezza Per far capire Le persone Che cosa devono fare Della loro vita In maniera ottimale Con la loro strada Con il loro percorso Perché poi tanto Non c'è tutto bene Per tutti Non c'è l'ottimale Non c'è l'ottimale Va costruito Però se vai a vedere La partenza Per un buon cambiamento Però ti faccio Però ti faccio una domanda Noi siamo un po' Il frutto Del nostro ambiente Quando dei ragazzi Si isolano Perché i genitori Lavorano Eccetera Alla fine Il loro ambiente È la camera Col cellulare Quindi in base A quello che loro vedono Vanno anche a plasmare Il loro inconscio La loro personalità Specialmente in quella fase Così critica L'evolutiva Quindi possono andare A trovare dei profili Che sono estremamente Disfunzionali Per la loro vita E possano andarci Molto sotto Quindi vedi Autolesionismo Droghe Eccetera Questo come può essere gestito Alla base ovviamente Immagini i genitori Ma in una società Del genere Sì Il discorso È un altro C'è una frase Interessante Che si utilizza spesso In ambito motivazionale E che ogni persona È responsabile Di tutto Di fronte a tutti Ovvero Una società funziona Quando Non sono solo I genitori A fornire Delle Buone Variabili Di cambiamento Ogni persona Deve fare il suo pezzetto Ok Quindi la famiglia È veramente importante Però La famiglia Allargata Deve essere la società E qua Il pezzo sociale Che diventa Veramente importante In questo momento Io ho l'ambizione Di credere Che noi facciamo Un pezzetto Che se magari Non arriva l'adolescente Che ne avrà per il cazzo Di sabato mattina Di sentire Uno con i capelli Uno senza Ok Però probabilmente Potremmo avere Un impatto Su qualcuno Che è limitrofo A quel ragazzo Magari che è un insegnante Un educatore Qualcuno che ha a che fare Con lo sport Che importanza Ha lo sport Ad esempio In un contesto Di crescita Quanto è importante Addirittura Più di tante parole Però se una persona Insegna sport E lavora Nell'ambito Dello sport E ha in testa Quello di cui stiamo Parlando adesso Diventerà efficace Sarà in grado Di trasferire In maniera magica Queste dimensioni Questo valore Ai ragazzi Ed è una cosa Che noi possiamo Immaginare Di farlo Per un processo Di reazione A catena Certo E tutto questo La società Come la vedi La società Secondo te Oggi Che cosa dovrebbe fare Per migliorare Questa situazione Allora Noi abbiamo Un mondo Che dà Informazioni Realmente Poco Utili Per la salute Per il benessere Fisico e mentale Parliamo Dei vari pilastri Del lifestyle Ok La società Ci dice Mangia No Da qua Se noi usciamo Di qua In 30 secondi Lì davanti C'è una pasticceria Ci abbiamo Cinque posti Che ci vendono Cibo Ok Cibo che ovviamente Non è cibo Come si intende Da un punto di vista Filogenetico Cibo sano Cibo vero Ok Non è carne Pesce Uova Legumi Esatto Cioè è qualunque cosa Ma non è cibo Ok Ecco Questo è una fortissima pressione Che abbiamo addosso Parliamo di attività fisica La società ci dice Che la cosa più utile Che ognuno di noi deve avere È un'automobile Uno scooter Un monopattino O qualche cosa Che ci permetta Di muoverci meno Gli ascensori Io credo Che in una società civile Bisognerebbe avere Il certificato medico Per usare un ascensore Sono d'accordo Ok Perché in questo momento È un'altra epidemia È quella di diminuzione Dell'attività fisica Le persone credono Che l'attività fisica Sia andare 20 minuti In palestra A ascoltare un po' di musica E a fare un'attività Resti sedentario Perché non ce l'hai dentro Lo dico sempre Perché le persone Vanno in palestra Pensano di essere sportivi Mangiano come sportivi Quando in realtà Sono sedentari Che spostano pesi Spesso anche In maniera non ottimale Quindi di fatto Non sanno Ed è ancora peggio Perché uno che non fa nulla Sa di sbagliare E allora magari C'è l'illusione C'è l'illusione Io e te Se adesso ci mettiamo qua E ci mettessimo A fare dello squat Fossimo in un altro posto Direbbero Questi due sono scemi Sono fuori di testa Ok In realtà sì Siete fuori di testa voi ragazzi Sì esatto 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 E molte volte anche Ridurre lo stress A livello emotivo Lo sport L'attività fisica È una delle cose più importanti Guarda Prima di un esame Esercizio Per chi ci sta seguendo Sei stressato Vai in un posto O se sei un coraggioso In mezzo alle altre persone Fai 10 squat 10 movimenti Fallo 3 volte Ti garantisco Che benzodiazepine Funzionano peggio Alcol funziona peggio Relazione con gli altri Funziona peggio È un ottimo esercizio Per rientrare In focus Lo puoi fare subito A costo zero Iperattivante Questa è la cosa più importante E pochi però Riescono a capirlo Perché vedono Lo sforzo fisico Come un sacrificio E non sentono Il beneficio reale Non lo vedono integrato Nella tua natura Esatto E poi scusami Tutte le altre situazioni Il sonno Tu devi dormire poco Perché se non performi O devi dormire alla cazzo Oppure tanto caffè Così ti svegli Alla mattina devi svegliarti Con il caffè Alla mattina hai bisogno del caffè Vuol dire che hai dormito male Gestione dello stress Relazioni con gli altri Siamo in un mondo Che le relazioni Vengono veramente poco privilegiate Io sono qua Per entrare in relazione con te Ho preso la mia auto Sono partito Ho fatto chilometri Per parlare con te Ok Questo deve essere un esempio Che realmente deve restare Che ci guarda Sì E questo è anche poco compreso Perché lo stress Che viviamo oggi Si è cronicizzato Tanto noi non siamo abituati A avere stress Psicofisico Cronico Cioè una volta c'era il leone Che ci inseguiva E finita lì Oggi invece La nostra mente Genera continuamente stress Quindi a livello cardiovascolare Che impatto ha questo stress Di 20-30 anni In maniera cronica Per essere iperperformanti Allora Lo stress che viviamo adesso È uno stress Che in apparenza È diverso Da quello che vive O più attenuato Rispetto a quello Che abbiamo fatto noi in passato Ricordiamocelo bene Tu vai a vedere Chi fa un lavoro In cui ogni tanto Ha uno stress Tipo modalità di leone Vive meglio Tu vai gliela a chiedere Chi fa il 118 Chi fa il poliziotto Sì ti dicono che è difficile Sì ti dicono che sei a rischio di burnout Ma tutte quelle scariche Di attivazione In realtà Ti permettono di Avere un andamento Un funzionamento cerebrale Più consono Come siamo fatti noi Il vivere Ingranati In un contesto claustrofobico Sentire l'incapacità Di cambiare Renderti conto Che se provi a muoverti È lì che si rivelano Le catene attorno a te Ok Finché stai fermo Ti sembra tutto bene Inizia a muoverti A provare a piccoli spostamenti Ti rendi conto che ci sono Intorno a te Catene Che ti bloccano Ok Quello è veramente un problema È una sorta di Quasi premorte Se andiamo a vedere Ed è questo il punto E questa è una situazione Che ha molto a che vedere Con un fenomeno Che si chiama freezing In ambito antropologico Di evoluzionistico E nell'ambito anche Di una teoria Che si chiama Teoria polivagale Che ha a che vedere Con appunto Il nostro sistema cardiovascolare C'è una C'è una teoria Che parla Legata al nervo vago Legata a varie porzioni Del nostro nervo vago Molto antiche Alcune più recenti Eccetera C'è una posizione Una parte simpatica Una parte bentrovagale Una parte dorsovagale Cioè abbiamo una dorsovagale Che è legata Colcetto di freezing Che è un modello esplicativo Anche della depressione E di altre patologie Con un gruppo In cui ero in passato Abbiamo lavorato molto Sull'effetto che hanno Fenomeni depressivi Affettivi sul cuore E questo Vediamo che ha un impatto diretto Sull'attività cardiovascolare Così come al contrario L'attività cardiovascolare Cioè la stimolazione Dello sport Sul nostro sistema Autonomo Ha comunque Un'attività Positiva Che poi si riverbera Sulle strutture Chiamiamole nobili Ma anche se è sbagliato Superiore Quindi sul nostro sistema Nervoso centrale Questa attività qua È qualcosa da vedere Come Tutta fortemente Connessa Non puoi distinguere Sistema nervoso autonomo Centrale Muscoli I muscoli sono un organo Come gli altri Quindi tutto è connesso Questa visione olistica È quella che ci deve Veramente muovere Quando ci vogliamo Prendere cura di noi stessi Pensare che ogni nostra Funzione è interconnessa E non è possibile Isolare cuore Cervello Muscoli Quindi la prima cosa Quando uno è stressato È prendere Andare a fare una bella corsa O a stare un po' di crisi Quella è un'ottima cosa Quella funziona Una delle Dice la gente Non lo faccio Non c'ho tempo Non è Ok Il problema È iniziare a capire L'importanza Capire l'impatto Iniziare a vivere Come questa cosa Può essere utile Essere magari accompagnati Avere anche il diritto A obiettare A sbattere i piedi E a dire Non funziona Non ho tempo Non ho modo Se ti dicessero In quella Non so Dieci chilometri da qua C'è una valigia Ti dico Voi dentro Ci sono dieci milioni Di dollari Ok Io ti garantisco E molleresti qualunque cosa E andresti a farlo Bene Dovremmo imparare A dare la stessa Importanza Al nostro benessere E iniziare ad immaginare Che di vite ne abbiamo Salvo Che uno non abbia Delle credenze metafisiche O Di qualche tipo Di vite ne abbiamo una sola E anche se ne avessimo Più di una Non è una buona Ragione per sprecare questa In ogni caso Quando hai in mente Questo valore Il valore del tuo benessere Che purtroppo Noi Lo teniamo a bada Lo teniamo a conto Quando lo perdiamo Certo E torniamo al discorso iniziale Ok Quando hai idea Di quanto vale Il tuo benessere Di quanto valga Una vita vissuta In benessere Beh allora a quel punto Metti tutto in secondo piano Il lavoro Qualunque cosa E ti occupi di quello Eh ma il problema Della valigetta È che quello lì È un atto eroico Sono tutti bravi A correre Con Prenderla E scappare Il problema è Ogni giorno Ogni giorno farlo Perché qui alla fine È un processo costante E il corpo Dal momento che smetti di farlo Perde tutto Cioè Massa muscolare Stima nervosa La salute Tutto Torna indietro Perché se non percepisce Quella cosa come utile Perde le sue funzionalità Quindi diciamo che Stressarsi a questo punto di vista È il vero anti-aging Quindi però il problema È la costanza E per essere costanti Bisogna sicuramente Essere appassionati Per quello che sta facendo Ma anche capire I propri valori Cioè molte persone Vogliono essere in salute Ma hanno come primo posto Il lavoro Il lavoro va contro La propria salute Quindi non potrà mai Essere in salute Infatti adesso abbiamo Delle soluzioni Molto giusto Quello che dice Abbiamo delle soluzioni Irrealistiche Abbiamo medicina dipinta Diciamo Con scientificità Di cose allucinanti Stanno fiorendo Come funghi Centri anti-aging In Italia In cui fanno Delle cose atomiche Io voglio vedere Ma vorrei entrare In contatto Per discutere Con quelle persone lì Letteratura alla mano Di che cazzo Stanno facendo Questo è un grave problema Dai delle informazioni Sbagliate Alle persone E li distrai Da quelle che sono I veri Parametri di salute E di malattia Dai Delle idee Di marketing Sbagliati Io non sono contrario Al marketing Entro certi limiti Anche all'aspetto Chiamiamolo più Capitalistico Della società Ma io credo Che bisogna essere Eticamente impostati Anche in quel senso Perché se no Quelle lì diventano Veramente delle Delle tagliole Per il nostro benessere Per la nostra salute Quindi ripeto La costanza Ce l'hai Conoscendo bene Come stanno le cose E noi stiamo cercando Di fare qualcosa E alle volte Io sto iniziando A pensare anche Che A parte nera Dei gruppi A community Che siano In qualche maniera Automotivanti Che ti permettano Io vedo nelle città Ad esempio Nascere tanti gruppi Che vanno a camminare Alla mattina Quello è bello Quello è un ottimo modo Qua Cisena Io cammino E sono in centinaia E vanno a camminare Quello è bellissimo Relazioni sociali Ti diverti Lì fai tante cose insieme Altro che centri Anti-aging Da un milione di euro Al giorno Centro a Milano Quello è vero Perché danno Una soluzione facile A un problema Diciamo complesso Ma che si va a risolvere Soltanto sul lungo periodo Quindi non gli stai Educando Non gli stai dando Un comportamento funzionale Dici prendi questo Fai questo Una volta alla settimana E hai finito Gli stanno dando L'illusione Di far qualcosa Per il loro organismo Quando in realtà Non è proprio così No assolutamente Guarda C'è anche poi Un altro argomento Un macro trend Quello degli integratori Di cui ora mi sto Iniziando ad occupare Perché mi sono rotto Le scatole Adesso sto facendo Guarda È un mese e mezzo Che ho fatto Una review bibliografica Di tutto Abbiamo preso Col mio gruppo Guarda Decine di integratori Adesso poi faremo uscire Risultati Abbiamo fatto un'estrazione Ma parlando di bibliografia vera Perché chi parla Di queste robe qua Non hanno idea Di cosa parla Chiunque può citare uno studio Ma sì Ma non hanno idea Di cosa vuol dire Fare una review bibliografica Cos'è Uno studio di corte Un case report Una meta-analisi Uno system Out-tick review Peer review Non sanno una mazza Parlano perché hanno la bocca Ecco Se fai le cose fatte bene Ti rendi conto Che c'è un numero Molto ristretto Di integratori Che hanno un loro utilizzo Ma in ambiti specifici Che alle volte Sono anche molto importanti Ma comunque Non possono essere sostitutivi Di uno stile di vita Impostati in una certa maniera Non sono sostituti Sono diciamo Delle leve Che possono potenziare In alcuni casi Ma solo in alcuni Alcune funzioni Che porti avanti Poi con l'attività tue Ma non potranno mai sostituire Invece adesso c'è questo Mega trend Che se tu Voglio dire Non so Mangi troppo Ti puoi prendere Quell'integratore Che emimerà La restrizione calorica Adesso c'è il trend Nell'azienda farmaceutica E dei farmaci Mimici Cioè quindi Sia di quello che mima L'attività fisica Cioè Sia di quello che mima La restrizione calorica Che ovviamente Sono messaggi Molto brutti Che diamo alla popolazione Sì perché dai Un farmaco a una persona Che o è dipendente Da esso E comunque Ha degli effetti collaterali Importanti O a lungo termine Quindi Ti faccio un esempio Abbiamo un mega trend Che è il GLP1 Non so se Il GLP1 Equivalente Analogio Facciamo nomi commerciali Ma ce ne sono diversi Abbiamo Mercati azionari Impennati Impennati Per queste cose qua Certo Lo so bene E quanta gente Adesso Negli ultimi sei mesi Abbiamo un boom Di VIP Che hanno perso 5.000 chili Ok Chissà com'è successo Chissà com'è successo Ok Perché questi farmaci Sono stati prescritti male Con delle indicazioni Che non sono quelle appropriate E inoltre L'analisi post marketing Sta iniziando Già a evidenziare Adesso Dei problemi Abbiamo Rallentamento Del transito Gastrointestinale Importante Con Specialmente Negli anziani Ma anche nei giovani Fenomeni di occlusione Subocclusione Disturbi mentali Connessi a Un utilizzo E un abuso Perché comunque Stiamo parlando Di azioni A livello ipotalamico Quindi alla centralina Del nostro cervello Che stiamo parlando Di ormoni Che non sono Sono neurormoni Sono ormoni Ma sono anche neurormoni Quindi un innalzamento Una correlazione Con il rischio di suicidio Sì ma poi corre il tuo dimagrimento Con quella sostanza Quindi se non hai quella sostanza Non riesci a dimagrire Quindi è fallace Quello E in più ti rendi conto Che se hai un blocco Del tuo appetito Con questi farmaci Qualcosa cambia Io ho fatto Noi lo stiamo usando L'abbiamo dovuto anche sperimentare Perché bene Il diabete Ha senso Perché in medicina C'hai rischio beneficio Per il diabete Ha senso Però ti rendi conto Che cambia qualcosa A livello proprio Neuronale Delle persone Le persone iniziano A vivere la vita In maniera diversa Alcuni sentono Un sentimento frequente È quello di sentire Meno piacere in generale Perché c'è Qualcosa di questo genere Quindi insomma Non si può pensare Di hackerare Il nostro Infatti è un termine Che detesto Il bio Anch'io Quello mi fa uscire di me Sì quello Quando sentite quella parola Vi stanno fregando Esatto Ecco E quindi C'è l'idea di hackerare Cioè che qualcuno sappia Qualche cosa Disconosciuto Che i medici non sanno Poi senti parlare Di cazzate Che noi conosciamo Da una vita Ma sai Tutto questo è affascinante Perché c'è la scoperta Il nuovo studio La pillolina È un po' noioso Parlare di Fai i tuoi passi Vai in palestra Spesso e spingi Mangia in maniera equilibrata Fai la tua routine Sì schematico Che palle Vuoi mettere Prendere un nuovo farmaco Un nuovo integratore Veloce Con un nuovo nome Non vedono l'ora E infatti il problema è questo Che secondo me Quello che noi stiamo dicendo Andrà a colpire Soltanto una piccolissima parte Della popolazione Ancora siamo molto lontani Sì può darsi Però sono convinto Che sia un lavoro Che bisogna continuare No è fondamentale È fondamentale Però La maggior parte Già a questo punto qui Avrà schippato il video E avrà Saltato completamente Però chi è arrivato Che è arrivato fino a qua A mio parere Potrebbe diventare Un ambassador Utile Che per promulgare Anche altre fasce Sono d'accordo Infatti lo facciamo per questo Per quei pochi Che veramente apprezzano E che poi possono Anche loro divulgare Perché poi il bello È che magari Se noi diamo Un messaggio semplice Anche la persona comprende E può istruire gli altri E quindi È una cascata positiva Credo proprio Che sia così Sì Vale Cosa daresti Come consiglio A una persona Per vivere in maniera Più Non felice Ma serena Allora La cosa più importante A mio parere È iniziare A interrogarsi In maniera Molto autentica Molto onesta Su cosa Desideriamo davvero Il desiderio È un'attività Del nostro cervello Molto poco esplorata Dalle persone Che viviamo spesso In maniera impulsiva E che ha a che vedere Con La dimensione Più passionale nostra Che cos'è Che veramente Vi muove il cuore Ok Quello è una domanda Non semplice A cui rispondere Io vedo che La popolazione Specialmente Adolescenziale Ha una perdita Di desiderio I ragazzi di oggi Al di là di quello Che si tira in giro Si drogano meno Che potrebbe essere Un bene Fanno meno sesso Esplorano meno La dimensione Della sessualità E hanno Una Una sorta di Appiattimento Però anche Di alcune dimensioni Passionali Di desiderio Che Mi preoccupa Io parlo tanto Con i giovani Con tanti giovani E quindi Un'attività Da fare All'inizio della vita E in realtà Da ripetere Nel corso della vita Sia quella Di chiedersi In maniera Molto autentica In maniera Molto Onesta Che cosa Desidero Davvero Che cosa Mi fa Alzare La mattina Questo è Qualche cosa Che Può Indirizzare Un po' Come una bussola Tutto il resto Delle tue attività Se rispondi Onestamente A questa domanda Una persona Poi inizia a diventare Meno anche Dipendente Inizia a essere Più gratificata Da quello che fa Perché fa Quello che decide Di fare E chiedersi Che cosa Desideriamo Profondamente Ci porta In una direzione Che è anche Un po' Contraria A quella attuale Che promulga Tantissimo Il concetto Di resilienza Di resistere Contro ogni cosa Devi resistere Perché devi La resilienza È importante Se la transizione Verso il cambiamento Il desiderio Invece Ti riporta Ti mette A fuoco Con un'altra Attività Che è quella Del cambiamento Io Chiamo spesso Cambiamento radicale Cioè Con la possibilità Che tu Abbia Almeno L'idea Possa immaginare Almeno contemplare L'idea di cambiare Qualche cosa Nella tua vita Che prima Ritenevi Non passibile Di cambiamento Le persone Quando io Do dei consigli O propongo Delle soluzioni Dicono a dirmi Dottore Dica quello Che vuole Ma io Non posso Fare questo Non posso Fare questo 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 Ok Quindi Lei mi sta dicendo Che lei Non può cambiare Niente Della sua vita Ok Bisogna iniziare Tramite la forza Di passione Di desiderio Immaginare Che c'è qualcosa Di radicale Che può essere cambiato Nella tua vita Il lavoro Perché no Il posto Lo vivi Perché no E non c'è E non c'è Un'età giusta Per farlo Alla fine Io guarda Ho cambiato La mia seconda vita Lavorativa È iniziata Cinque o sei anni fa Io sono passato Da una situazione Abbastanza Apicale Nel servizio sanitario Nazionale In cui i miei colleghi Mi dicevano Ma tu sei pazzo Ti licenzi Ma tu sei pazzo Ma cosa fai Dove vai a vivere Perché Altri momenti Della mia vita Io ho vissuto Sette anni In una baita In montagna Sette anni Che andava a legna Avevo sì Un internet Della Madonna Però andavo a legna Ok Sette anni In mezzo alle mucche E sono stato Veramente bene Sono stati sette anni Di grandissima formazione Ho letto tantissimo Ho fatto grandi cose In quei sette anni Poi ce l'ho Punto Mi sono rotto Ho cambiato Chiaro Chiaro Però ecco Il cambiamento radicale Qualche cosa Che le persone Non contemplano Perché viviamo In una società Che non favorisce Il cambiamento Ballo 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 Beh guarda Allora io credo che Il lavoro Che stiamo facendo Sia un lavoro In apparenza Simile a quello Di Sissifo Sai quello che Portava su Il masso Poi tornava indietro Poi ritornavi su Poi tornava indietro Ecco In apparenza Possa sembrare Un lavoro Addirittura Privo di speranza No O disperato Io non credo Io credo che Ogni volta Che una persona Porti il proprio esempio E delle informazioni Scientificamente Affidabili Alla popolazione Non sia mai Un lavoro sprecato Semplicemente Bisogna confidare Sull'idea Che dicevamo prima Che ogni persona Da un certo punto di vista È responsabile di tutto Di fronte a tutti Per qualunque cosa Quindi L'effetto a catena Che piano piano Si sviluppa Credo sia Un Un mio personale E atto di fede Ma che vedo Che in qualche maniera Funziona Quindi Buttare piccole gocce Della nostra esperienza Nei confronti Delle altre persone Possa fare Molto di più Piuttosto che stare Chiusi Nella cameretta E dire Che mondo schifoso Non cambiare mai Esatto Beh È un po' la nostra missione Da divulgatori E questo è il gioco Sì Credo sia questo il gioco Vale Ti ringrazio Grazie a te Al prossimo